Per la maniera numero 6 Alessandro Turmaio, per la maniera numero 7 Marco Enciun, per la maniera numero 8 Patrizio Franca, per la maniera numero 9 Jonathan Beretz, per la maniera numero 10 Sofran Carmini, per la maniera numero 11 Tommaso Papini, a diffusere per la maniera numero 12 di Maurizio Erbati, e oggi tutte le mani, forse la maniera numero 6! Andiamo! Alta la concentrazione, andiamo! Facciamo il sorteggio, poi passate voi capite di scegliere, c'è scegliere all'ospite, non farò solo così via! Eccolo! round Red 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 Secondo il cambio nelle file della Lausei, un applauso per lui, con la maglia di numero 7 esce Marco Engel, entra con la maglia numero 16 Mattia Flores. E' un applauso per lui, con la maglia numero 13, insegnate Federico Baru, Federico Baru, Federico Baru. Tutti insieme, cuore, bianco, cosco, verde, cuore, bianco, cosco, verde, un applauso per Federico Baru. E' un applauso per lui. E' finita! Grazie a tutti. Grazie a tutti.